Se sei pronta noi pensavamo di licenziarti Ma non mi avete neanche assunta Ho capito, però se noi ti licenziamo Tu vai a fare la guida tv da un'altra parte Poi ti licenziare, torni da noi e magari ci facciamo pubblicità Mi ricorda qualcosa Su Rai 1, il 59esimo festival della canzone italiana Condotto da Paolino Bonolis Da guardare perché Sanremo è Sanremo Guardate che ha anche cambiato sigla nel frattempo Niente dopo festival Però tutti i giorni alle 13 c'è il Sanremo Question Time Come in Parlamento Su Rai 2, senza traccia E anche senza la speranza di far ascolti Su Rai 3, Floris conduce Ballarò Come se niente fosse Perché anche se i giornali parlano solo di stupri e di Sanremo Ci sono anche le elezioni in Sardegna Su canale 5, RIS Delitti imperfetti Che si immola contro la colossale messa in scena di Paolo Bonolis Forse c'è qualche speranza Che la gente smetta di guardarlo Ma a proposito di gente che smette Abbiamo notizia di Mentana No, guarda, da quando ha scoperto Sky Non ha più smesso di fare zapping Su Italia 1 c'è Il Signore degli Anelli Per una controprogrammazione in grande Ci vuole un grande pennello Non era un pennello grande Su Rete 4, Betty Love Storia di una donna che crede di vivere in una soppopera Come tutte le case linghe di Voghera Sulla 7 c'è Relic Hunter E vai Che culo Yuppie Su All Music c'è Trans Euro E poi Ingelecam Italia Su MTV Cartoni animati Eccezionale cambio di palinsesto Bella Da questa Ma lo smetti Eccezionale cambio di palinsesto Da stasera Il Grande Fratello Le 23 e 30 A domani E se i palinsesti cambiano Non date la colpa a me Io sono sul palco dell'Ariston